Festa Nardò è stagione travagliata, finalmente alle spalle la compagine neretina fa suo, il play-out salvezza battendo 3-1, il Gragnano e l'anno prossimo sarà nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Serie D. Gara quasi senza storia, quella del Giovanni Paolo II dove gli uomini di Mr. Bitetto dominano la scena, soffrono sul finire della prima frazione e poi suggerano il successo con un perfetto secondo tempo. Partono fortissimo i padroni di casa al sesto, subito occasione per Mingiano che si accentra e calcia a giro di sinistro trovando la deviazione in corner di Russo. Passano 4 minuti e ancora l'estremo giallo-blu salva con un super intervento sul colpo di testa di Kieramateng diretto all'angolino. Il Nardò domina i suoi sforzi, vengono premiati al 29esimo da Mingiano che sull'assist di Kieramateng lascia partire un preciso diagonale all'angolino che non lascia scampo al Russo. Il raddoppio sembra cosa fatta al 35esimo quando la deviazione di Acquaro su corner di Arario termina di poco lontano dall'incrocio. Al 43esimo arriva però inaspettato il pareggio del Gragnano. Disimpegno errato di Cassano e palla per Gassama che batte Russo sul primo palo, si va a riposo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a fare la partita e al 56esimo trovano meritatamente il nuovo vantaggio. Calcio di punizione battuto da Bolognese e precisa incornata di Cassano che manda in estasi il pubblico del Giovanni Paolo II. 2-1, Gragnano in 10 per la doppia munizione rimediata da Martone e gara in discesa per i Neretini che vanno più volte vicino al Tris. Al 66esimo con il colpo di testa di Mingiano salvato in corner da Russo. Al 75esimo l'interno destro di Kieramateng fa la barba al palo e al 78esimo arriva finalmente la rete Salentina, palla vagante nell'area gialloblu e conclusione vincente di Molinari che chiude e manda in archivio il match. Al triplice fischio è festa per il Nardò di Mr. Bitetto che dopo una lunga e travagliata stagione conquista la salvezza e si auspica di poter preparare al meglio la prossima sempre in Serie D.